Mi dici cosa pensi di queste parole di Cassano? Penso che non sia in buona fede, non ha avuto il coraggio di dire che se n'è andato perché ha chiesto il prolungamento del contratto che non aveva ragione di essere richiesto e la storia è finita lì. Perdonami, qua l'ha detto abbastanza chiaramente, prometteva, prometteva, non è che gli promettevano... Ma non si capisce a quale titolo Antonio Cassano avesse chiesto un prolungamento di contratto almeno alla fine della scorsa stagione. Perché? Perché l'hanno rimesso in piedi, l'hanno rimesso a giocare perché ha fatto un bel europeo. Vuole un premio, uno che prende 4 milioni all'anno, non ha giocato 6 mesi, vuole un premio, un prolungamento in questo momento? A me di tutto mi pare che Cassano possa essere, ma che sia uno che dica una cosa per un'altra non mi sembra. Mi pare proprio uno che non è un tattico, quindi quello che pensa lui dice, quindi probabilmente un fondo di verità ce l'avrà anche lui. Poi un'altra cosa che non c'entra niente è, complemente la parure che ha, perché è una bellissima parure, ha l'anello e l'orecchino uguale con i diamanti. Ecco io penso che con l'orecchino e con l'anello che ha vissuto, gli due anni che ha vissuto lui al Milan, dopo essere stato cacciato via, forse non dirà quello che pensa, come dici tu, non lo so. La storia dice che viene cacciato da Madrid, viene cacciato da Genova, si caccia da Milano, qualche problemino ce l'ha. Mi sembra che sei un po' troppo, diciamo, un pochino un po' troppo sul sottile. Allora, Cassano è stato regalato dalla Roma al Real Madrid. Cassano è stato regalato dal Real Madrid alla Sampdoria. Cacciato via. È stato lasciato libero dalla Sampdoria. Cacciato via. Sì, cacciato via. Quindi è inutile di sapare di Cassano. Poi a me risulta oltretutto che gli ultimi festeggiamenti fatti dallo spogliatoio del Milan, ma proprio importanti, sono stati dopo la conquista della Champions. Ecco, quando Cassano gli hanno detto che sarebbe andato via, hanno festeggiato come in occasione dell'ultima vittoria in Champions League. Quindi mi sembra che abbiamo detto tutto, no?